Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. Andiamo subito con la cronaca. Da quattro giorni non si hanno più notizie di Concetta Bruno, la 56enne di Ordona, di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 16 giugno scorso, quando è uscita di casa alle 7, senza dire a nessuno dove sarebbe andata. Sentiamo gli aggiornamenti. Ancora vane dal 16 giugno scorso le ricerche di Concetta Bruno, la 56enne di Ordona. I familiari hanno trovato la sua auto parcheggiata alla stazione cittadina. Sappiamo solo, scrivono su Facebook, che dopo aver lasciato l'auto nel piazzale della stazione è stata vista prendere il treno per Foggia alle ore 7.25. Al momento della scomparsa la donna indossava un pantalone nero, una maglia verde acqua e occhiali con montatura scura. Aveva sandali bianchi, una borsa beige che indossava a spalla e una busta in cartoncino di colore blu. Del caso se ne sta occupando anche la sindaca di Ordona ad Algise, la Torre, con un appello rivolto ai titolari degli esercizi commerciali di Foggia e a chiunque abbia delle videocamere su Viale 24 Maggio, di visionarle e di verificare se vi sia traccia del passaggio di Concetta. Anche l'associazione Penelope Puglia, associazione di famiglie e amici delle persone scomparse, si sta interessando alla scomparsa di Concetta. Potrebbe aver preso il Frecciarossa che da Foggia conduce a Roma dalle ore 8.53. Qualcuno l'ha incontrata sul treno? Qualcuno le ha parlato? È davvero scesa a Roma? Oppure alle fermate intermedie? Si chiede l'associazione. A Vieste un'altra villa è stata confiscata alla mafia. Per il sindaco della città garganica, Nobiletti, si tratta di un segnale forte. Non bisogna avere paura, dice Enzo Croce. Allora, ieri abbiamo dato esecuzione ad un decreto di confisca che nasce da un'attività pregressa fatta sia dalla Polizia Locale che dalla Guardia di Finanza che poi ha portato tutta questa attività al decreto di confisca che abbiamo eseguito ieri. Il Comune di Vieste, in questo senso, con il sindaco in prima persona, ha sempre intrapreso attività di questo genere. Abbiamo fatto altri tipi di interventi, anche delle demolizioni di opere abusive e comunque di immobili che si appartenevano alla criminalità organizzata e ne faremo anche altri successivamente. Si tratta di una villa, proprio ieri o l'altro ieri, in questi giorni, grazie all'intervento della Polizia Locale insieme al nostro ufficio patrimonio, siamo entrati finalmente in possesso di questa villa per la quale abbiamo progetti di natura sociale. Sì, faremo una progettazione, quindi sicuramente andrà via un po' di tempo, però speriamo che per l'anno prossimo possiamo destinare questo immobile, quindi recuperare questo immobile a fini sociali, proprio in netta contrapposizione con quello che invece è lo spirito della mafia che tende ad accumulare risorse per se stesso. A noi in questi anni abbiamo sempre messo in esecuzione una lotta alla mafia che non sia solo fatta di proclami ma che sia fatta poi anche di fatti concreti per quello che ovviamente può fare un comune perché chiaramente la parte da Leone, la parte più importante la fa la magistratura e le forze dell'ordine. Nell'aula Magna della Facoltà di Agraria Bari, Lega Coop Puglia accende i riflettori sulle criticità del mondo agricolo e i limiti normativi del settore che rischiano di compromettere la vita di aziende sane e rispettose delle regole. Tre le principali proposte che tengono al centro la legge anticaporalato, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Dobbiamo assolutamente alzare il livello della sicurezza nelle nostre imprese, nelle imprese agricole. Ma non con le carte. Il problema è che molto spesso però non si entra in merito realmente a quelli che sono i processi di sicurezza. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di, almeno chiediamo, che un po' si aprano questo ragionamento e che diventi tutto più semplice. Tant'è che proponiamo rispetto a questo anche una diversa, una modifica rispetto alla certificazione sanitaria. La terza proposta è il processo sulle filiere, quindi una maggiore attenzione rispetto alle filiere, ma soprattutto renderele possibili e praticabili. È anche un modo per aumentare l'occupazione, l'occupazione stabile, l'occupazione sicura, appunto, e dentro la cooperazione. Infatti lo lanciamo come Lega Coppe, come Università degli Studi di Bari, come Facoltà di Agraria. Pensiamo che si debba anche riprendere ad occupare fortemente nella ricerca, perché l'occupazione dei braccianti, così come quella di ricercatori, non sono sganciate. Penso che i fondi che stanno arrivando, per esempio a Manfredonia, parliamo di oltre 50 milioni di euro, così come a Cirignola, quasi 9 milioni di euro, debbano essere adoperati prevalentemente per ristrutturare i mobili pubblici, dove allocare stagionalmente i braccianti per poi sviluppare delle funzioni invernali per tutti, anche funzioni interculturali. Non credo che la soluzione sia quella delle foresterie o di altre, diciamo, nuove tendopoli di serie A stagionali, perché rischierebbero di diventare degli hotspot. Abbiamo già assistito a questi errori commessi dallo Stato, penso a Borgo Mezzanone, che insiste in un territorio demaniale intorno a un'area che è un cara, che dovrebbe essere presidiata dallo Stato, ma in realtà lo è pochissimo. Penso appunto che si debba fare entrare i braccianti progressivamente all'interno dei centri abitati, con delle soluzioni abitative che ci sono. Peraltro il Foggiano, come altre province della Puglia, si sta spopolando. Questo genererebbe economia all'interno del mercato immobiliare degli affitti e certamente un processo positivo di integrazione sociale. La Puglia del vino fa il pieno di riscontri e apprezzamenti al Summer Fancy Food Show di New York. Si è concluso nella città della Mela la più importante rassegna dedicata al comparto alimentare di tutto il continente americano, che quest'anno ha visto tra i protagonisti la regione Puglia, che con l'assessorato all'agricoltura ha raccontato le sue eccellenze, le eccellenze di una terra straordinaria, amata e conosciuta in tutto il mondo. Sentiamo. Trovo questa iniziativa eccezionale sia per la qualità ma anche per la tempestività, perché questo è un periodo di grande crescita, rinnovata crescita del turismo americano in Italia e la Puglia oggi è una delle mete che cresce di più e a noi italiani non stupisce per le sue bellezze naturali e artistiche. Da quel punto di vista è una delle regioni che ingloba veramente tutto e offre veramente di tutto. E quello che offre è anche una tradizione culinaria assolutamente eccellente e una cosa che si è sviluppata nei decenni più recenti, una capacità produttiva di qualità che poche regioni italiane hanno, soprattutto al Sud. Abbiamo fatto questa grande operazione, abbiamo messo insieme produttori di vino e di prodotti dell'agroalimentare di qualità che ha avuto un grande successo, un grande apprezzamento e abbiamo lavorato insieme di squadra, come stiamo facendo ormai da mesi, per promuovere le nostre migliori eccellenze in termini di qualità della filiera agroalimentare e per dare l'opportunità a coloro i quali non ci conoscessero di aprire quindi nuovi mercati e di dare opportunità al nostro sistema di impresa e al mondo di conoscere i nostri prodotti. La cosa è andata molto bene e questo ci rincuore e ci fa guardare avanti con maggiore entusiasmo ed interesse. Bene, è tutto con questa prima edizione del Tg del quotidiano L'Attacco. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20. Grazie per essere stati con noi. A più tardi.